Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei candidati alla poltrona di sindaco per le prossime amministrative del comune di Pordenone. Una settimana fa abbiamo incontrato Gianni Zanolini, il candidato del centro-sinistra. Oggi incontriamo Anna Ciriani, sostenuta da una lista civica. Amiamo Pordenone, professoressa. È l'unica figura femminile del terzetto. L'altro candidato, quello del centro-destra, è il sindaco uscente Alessandro Ciriani. Combinazione stesso cognome, ma cominciamo da lì. Non siete parenti? No, non siamo parenti. Può succedere, come è sempre successo, anche non è la prima volta che ci siano casi di omonimia, ma non è colpa di nessuno se due persone hanno lo stesso cognome. Il cognome quello è. Anzi, io sono molto fiera del cognome della mia famiglia e di rappresentare la mia famiglia e la famiglia Ciriani. Nel simbolo, naturalmente, si vede bene, qualcuno ha detto, beh, lo stesso nome, qualcuno può anche magari confondersi, però, insomma, in questo caso il vostro cognome è questo. E quindi, diciamo, due sfidanti, due Ciriani. Diciamo che le probabilità che ci sia un Ciriani sin da qua aumentano. Allora, intanto, guarda, ho portato proprio fresco di stampa, che è appena arrivato, anche per voi telespettatori, questo volantino, che io da sabato distribuirò a tutta la cittadinanza, ai cittadini e le cittadine di Pordenone, perché sarò in piazza e che è la cosa che mi piace di più, perché io adoro il contatto con la gente, il contatto con le persone, ascoltare quelle che le persone hanno da dire, i problemi della città, ma anche le cose positive. È anche un modo per conoscerci. Come si può notare anche dal volantino, ho messo bello in grande il simbolo. Innanzitutto c'è scritto Anna Ciriani, quindi io ho messo anche il nome, che è Anna, io sono una donna, l'altro è un uomo, quindi già qua c'è una bella differenza. Oltretutto Anna è proprio un nome che non si può neanche trasformare al maschile. Quindi, in più io ho messo la dicitura sindaca, proprio perché sono una donna, e ho messo la bandiera di Pordenone, che è rossa e bianca, e anche la fascia del sindaco e della sindaca della bandiera italiana, che appunto rappresenta la nostra nazione e il nostro Stato. E poi sotto il nostro slogan, che è Amiamo Pordenone, proprio perché noi siamo un gruppo, una squadra, una lista civica, che è la vera lista civica. Perché? Perché mentre le altre liste civiche sono liste civiche civetta, nel senso che poi, diciamo così, sostengono un candidato, una candidata che fa parte di un partito politico e rappresenta un partito politico, e la mia squadra rappresenta a me, che invece io non sono legata ad un partito politico, ma sono svincolata da qualsiasi partito politico. Questa è una cosa molto bella, nuova, mi rende molto felice, perché io così, in questo modo, ho anche le mani libere, nel senso che sono svincolata dai partiti politici, dai segretari e dalle idee, e dai diktat dei segretari dei partiti politici, nel fare qualcosa per la mia città. Quindi se serve, lo faccio immediatamente, lo faccio con la mia testa, lo faccio libera e svincolata da qualsiasi dettame che deve provenire da Roma, per forza. Allora, appunto, lei non è una politica di professione, si era cimentata, se non sbaglio, con le europee qualche anno fa, peraltro in Basilicata, in tutto il sud, in quella circostruzione appunto del sud. Come è nata però la voglia di mettersi in gioco proprio qui a Pordenone per la fascia di primo cittadino? Beh, io appunto ho voluto proprio presentare un progetto per la mia città, proprio perché sono nata qui, ho sempre vissuto qui, e quindi perché è stato fatto tanto, però Pordenone ha ancora bisogno di tanto. Ha ancora bisogno di tanto soprattutto non per la città in se stessa, quindi cantieri e cantieri che vengono comunque ancora, sento, riproposti, ma anche per la gente, per i cittadini e le cittadine, e a me questo piace molto. E allora come ho pensato? Ho riflettuto, ho pensato che cosa piace, che cosa interessa all'essere umano? Sono tre cose principalmente, la sanità, il denaro e l'amore. Queste sono le tre cose che spingono avanti il mondo. E allora io da comune cittadina proprio ho pensato a queste tre cose. Sanità perché ci vuole una riorganizzazione ospedaliera per Pordenone, ma anzi io nel mio programma ho messo anche la creazione o l'individuazione di spazi, di presidi sanitari anche nei quartieri. Questo non solo per decongestionare l'ospedale di Pordenone, ma per dare a tutti un primo intervento di analisi del sangue, elettrocardiogramma, anche per quel che riguarda per esempio i vaccini, quindi non far spostare sempre le persone, anche gli anziani che magari spesso non hanno macchine, non hanno nessuno che li accompagni. E questo è molto importante, un primo intervento nei quartieri. Secondo anche la creazione di un grande parcheggio di fronte all'ospedale, con un collegamento diretto all'ospedale, gratuito, perché adesso c'è un piccolo parcheggio a pagamento che poi decongestiona tutto il quartiere circostante, non è possibile andare avanti così, le persone non vanno a fare shopping, vanno a fare visite, vanno a trovare i loro cari, sono ricoverate, quindi il parcheggio deve essere grande e gratuito. Pensa in questo caso anche a una soluzione nell'ex caserma mitica, che è quest'area enorme che potrebbe essere riconvertita in qualche modo. Esatto, io ho pensato alla riconversione della mitica e l'ultima parte, solo l'ultima parte della caserma, quella appunto dove ci sono le mura, di appunto prendere una parte di queste mura e di questa caserma proprio per fare un grande parcheggio gratuito per chi deve recarsi in ospedale. Ne hanno già fatto uno, ma purtroppo è troppo piccolo e non basta, si sono resi conto di questo. Quindi, e questo serve anche a decongestionare tutta la zona dietro l'ospedale, quella di Vial Rotto, che effettivamente si trova in una situazione davvero critica e bisogna risolvere il problema per i residenti che vivono lì. Diceva, uno sanità, due il denaro, i soldi. Esatto, quindi l'economia, perché Pordenone è inserita in un'economia nazionale, ma anche in una microeconomia, quindi rilacciare il commercio e l'industria. In che modo? Sicuramente facendo pagare meno tributi alle attività, ai commercianti, alla ristorazione e chiaramente dare più contributi nello stesso tempo, perché noi stiamo venendo fuori anche da un grosso problema che è quello della crisi economica che ha portato questa pandemia. E quindi qui bisogna assolutamente far di tutto per rilanciare le attività, perché poi se c'è un rilancio del commercio stiamo bene tutti, è un indotto che poi fa girare tutta l'economia anche di chi poi va a comprare, di chi sta meglio, è tutto un indotto che è collegato tra loro. E soprattutto anche, un punto importante, lo do anche a un incentivare le nuove start-up, perché incentivando nuove start-up sicuramente ci sarà più occupazione, anche per quel che riguarda le donne. Quindi incentivare il mio programma, visto che sono una donna, il mio progetto ha una sezione, una grossa sezione per quel che riguarda le donne, anche per quel che riguarda le nuove start-up al femminile. E questo è molto importante. E poi il turismo, perché anche il turismo, che non ce n'è a Pordenone, io ho previsto un grosso progetto per il turismo, che è stato fatto da persone competenti, che lavorano da più di 50 anni nel turismo. Per fare il turismo a Pordenone bisogna fare rete, rete tra tutti coloro che lavorano già nel turismo. Quindi tutte le agenzie di viaggi, tutte le associazioni che si occupano di turismo, dalla Promo Turismo alla Turismo a Pordenone, comunque anche le Camere di Commercio, comunque anche collegate con la Promo Turismo Friuli Venezia Giulia. Quindi non è solo una cosa di Pordenone, ma è un collegamento con tutta la regione, con gli enti del turismo della regione e anche italiani. Perché no? Perché abbiamo il vicino Veneto, abbiamo l'Austria, anche extra italiani. Abbiamo la Slovenia, abbiamo tanti stati vicini e quindi si può creare una rete tutti insieme. E Pordenone è al centro tra il Friuli e il Veneto, quindi siamo a 40 minuti davvero da località stupende come Venezia, come Treviso, come Trieste, come le località di Mare, Lignano. Questo è importantissimo come Cortina, tutte le Dolomiti Friulane e quindi è un punto nevralgico proprio di passaggio per moltissimi turisti, potrebbe esserlo e questo è molto importante, anche perché poi il turismo fa lavorare tutti, il commercio e la ristorazione. E diceva, ultimo punto, l'amore. L'amore, ecco, questo è importantissimo perché si parla di amore per la mia città e infatti anche il mio slogan, Ami, amo Pordenone, che racchiude anche tre pronomi personali. Io amo, tu ami, noi amiamo Pordenone. Perché appunto si parla di amore per la città, quindi amore per le varie categorie della città, amore per i giovani e quindi si può fare qualcosa per i giovani, che spesso purtroppo qui a Pordenone dopo la maturità se ne vanno via, perché la città non offre nulla, né in ambito lavorativo, di occupazione, ma anche in quello di divertimento. Non c'è nulla a Pordenone, quindi spesso i giovani vanno in altre città più grandi, se non all'estero. Ecco, a me dispiace, perché noi poi abbiamo giovani che sono veramente bravi, che potrebbero essere occupati anche nelle nostre aziende. Abbiamo delle aziende forti nel settore del tessile, nel settore del tessuto domestico, cioè del legno, quindi è importante che i giovani rimangano. Quindi fare progetti per far rimanere i giovani. Gli anziani, è inutile fare solo case di riposo, perché ci sono tanti, è importante sicuramente, ma non è solo quello, perché nella nostra città ci sono tanti anziani che non hanno bisogno di case di riposo e che vivono da soli e che sono chiusi in casa dalla mattina alla sera perché non hanno luoghi ricreativi, non hanno, diciamo così, circoli dove passare il tempo, dove socializzare, fare altre amicizie. E anche, per esempio, io sono una professoressa, quindi lo dico, ci tengo molto anche alla scuola. Oltretutto nella mia lista ci sono tanti insegnanti che hanno voluto partecipare, quindi è importante la scuola a Pordenone e io insegno al CPA, che è il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, quindi sicuramente cercherò una sede unica per la scuola dove lavoro, quindi per il CPA, perché adesso siamo dislocati anche a Pordenone, le aule in una sede, la segreteria, la presidenza in un altro, non va bene. Ci vuole una sede unica dove fare non solo i corsi di italiano, e questo è importante per l'integrazione, ma anche corsi di informatica, corsi di lingue e anche gli anziani possono venire e partecipare, che è importante anche per un supporto digitale per gli anziani, perché adesso è tutto con questi speed post elettronica ed è bello aiutare anche i nostri anziani anche in questo senso. Amore per una città significa anche amore per i disabili, amore per gli sportivi, quindi creazione anche, perché no, di nuove strutture, anche di uno stadio, visto che noi abbiamo una squadra in serie B. E di questo ne parleremo, perché è il tema stadio sicuramente in campagna elettorale. Sono tiposa del Pordenone, assolutamente, quindi mi raccomando, ne parleremo sicuramente. Ne parleremo subito dopo la pubblicità, ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare di sport e anche di ambiente. a tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia della professoressa Anna Ciriani, candidata a sindaco alle prossime amministrative del comune di Pordenone. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità col tema stadio, molto sentito naturalmente qui in città, perché il Pordenone è in serie B, dopo tanto ci è arrivato per la prima volta nella sua storia, però sta giocando a Lignano. Insomma, in molti chiedono dopo l'addio al Bottecchia, che ci sia una struttura dedicata ai ramari. Beh, è giusto, perché effettivamente andare a Lignano dispiace, dispiace molto. Purtroppo a Pordenone uno stadio non c'è, c'è quello lì al Bottecchia, ma è troppo piccolo. Tra l'altro l'area del Bottecchia comunque va riqualificata, perché comunque deve essere utilizzata per tutti, perché più sport e più benessere. Per quel che riguarda lo stadio, io l'ho sempre detto, ci vuole una partnership con degli investitori privati e quindi noi abbiamo a Pordenone sicuramente delle aziende anche molto grandi, conosciute all'estero, che fanno stadi tra l'altro in tutto il mondo. E quindi io in prima persona andrò ad incontrare chiaramente i titolari di queste aziende per parlare direttamente e cercare di trovare un accordo per fare uno stadio in città. Tra l'altro con chiaramente anche il contributo del Comune che deve provvedere a tutte le infrastrutture esterne, quindi parcheggi, servizi, illuminazione, chiaramente tutte cose a LED, nella ecosostenibilità, per quel che riguarda appunto una partnership insieme per questa creazione dello stadio. individuare anche un'area che non crei problemi alla popolazione e alla cittadinanza, sia per quel che riguarda l'inquinamento acustico che anche il traffico, chiaramente perché se no è inutile, ma a Pordenone noi abbiamo tante aree e quindi sicuramente si troverà. E questo è importante di trovare appunto dei privati perché se facciamo tutto con il pubblico questo crea disagi, non solo perché i soldi pubblici è meglio adesso in questo periodo spenderli per cose utili alla cittadinanza, anche per aiutare tante persone che hanno perso il lavoro, persone che sono in cassa integrazione, persone che hanno difficoltà economiche, un sindaco deve vedere anche queste cose, quindi creazione piuttosto di asili nido per aiutare, no, preferisco utilizzare i soldi pubblici per fare un asilo nido piuttosto che per uno stadio, ecco per aiutare direttamente la popolazione di Pordenone, però sicuramente impegnarmi con dei partner privati per creare lo stadio ed è meglio perché così in breve tempo viene fatto e non come solo con i soldi pubblici che poi durerebbe 10-15 anni sicuramente la messa in opera. Senta, siamo qui all'imbarcadero, alle nostre spalle c'è il noncello, ecco sul tema dell'ambiente, qual è il vostro programma, la vostra strategia? Ecco, allora io quando parlavo prima di amore per Pordenone sicuramente mi riferisco anche all'amore nel senso ambientale, io adoro la natura, adoro gli animali e quindi per me è molto importante nel mio programma e nel mio progetto, noi abbiamo proprio, parlo di noi perché io e la mia squadra abbiamo messo appunto dei punti importanti in questo senso e anche quindi assolutamente protezione dell'ambiente di Pordenone, degli alberi, non abbattimento certamente, riquilificazione del verde pubblico ma soprattutto ripopolamento del verde pubblico perché qui sono stati fatti abbattuti molti alberi e non sono stati ripiantati, ma noi abbiamo bisogno di ossigeno perché guardate che l'ossigeno fa bene, l'ossigeno è vita, è vita per noi, per gli anziani, per i bambini e Pordenone si presta e quindi creazione anche non solo di boschi cittadini, quindi anche, e io ho un'idea molto bella perché anche le aziende di Pordenone potrebbero veramente, diciamo così, adottare degli alberi, finanziare, sponsorizzare con dei boschi urbani, quindi loro che sono aziende che in teoria, no, nella mentalità potrebbero in qualche modo così rendere non sano l'ambiente e quindi creare e invece fare questo connubio che loro possono creare questi boschi urbani per la cittadinanza. Molto spesso poi tra l'altro leggo anche di commenti su Facebook che non sono, diciamo così, veritieri purtroppo, perché molto spesso vengono scritti, la gente non ha visto le aree, ma io ho girato tutta Pordenone perché sono nata qua, sono andata a vedere aree che poi sono state distrutte e tutto quello che scrivono, i motivi, le motivazioni per cui le hanno distrutte, perché c'era questo, quell'altro, non è la verità, non è la verità, perché io ci sono passata, le ho viste, quindi bisogna stare attenti, io voglio essere una sindaca che non sta chiusa in comune, ma che gira per la città, che vuole avere un rapporto umano con i suoi concittadini e le sue concittadine, che vede di persona le cose, che accorre quando ci sono problemi e poi va in comune e li risolve. E io vado a vedere prima di parlare e voglio essere sincera quando scrivo un post con i miei concittadini e le mie concittadine, non per tarpare le ali a qualcuno e per non creare polemiche, scrivere cose che non sono vere, questo non mi piace, da me non accadrà mai. Guardiamo anche al futuro, sull'innovazione. Se dovessi essere eletta sindaca, io sicuramente istituerò l'assessorato all'innovazione, questa è una novità, è la prima volta che lo dico, l'ho messo anche nel volantino con tutti i punti, alcuni punti del mio programma, ma almeno quelli più importanti che la cittadinanza può leggere, da sabato mi raccomando al mercato, ogni mercoledì e sabato sarò lì, in piazza, in mezzo alla gente e anche nei quartieri, perché non ci dobbiamo dimenticare dei quartieri di Pordenone, che non sono un appendice della città, ma fanno parte integrante della città e io sarò ben felice ad andare anche nei quartieri, questa volta non da comune cittadina, ma proprio da candidata a sindaca. Innovazione, importante l'assessorato l'innovazione perché adesso la città non deve essere solo green, ma deve essere anche smart. Cosa significa? Una città intelligente, perché se noi facciamo una città volta all'innovazione, avremo anche meno impatto mentale, meno inquinamento, più rapidità nello svolgere, per esempio, non so, nella burocrazia, nello snellire la burocrazia e quindi questo è molto importante non solo per i singoli cittadini e cittadine, ma anche per le attività commerciali, per gli uffici pubblici. adesso si usa tanto questo smart working, quindi anche creare dei siti dove si possa andare a lavorare insieme, per chi non ha la possibilità di dare la fibra al 100% a tutti e soprattutto riaprire il wifi gratuito a tutta la città. questo è molto importante, è un segno proprio di innovazione. Ha puntato molto il dito sul discorso al femminile, la sua lista sarà composta da più donne, più uomini, ci sarà un mix ed eventualmente quale sarebbe la composizione della giunta? Beh allora, per quel che riguarda la composizione della giunta è un po' presto adesso, intanto noi ci stiamo concentrando molto sul progetto e sull'incontrare le persone, farci conoscere dalle persone, diciamo così, parlare con le persone, proporre il nostro progetto e anche condividere il nostro progetto con le persone di Pordenone e con i cittadini e le cittadine di Pordenone, perché non è un progetto calato dall'alto il nostro, ma è un progetto con le orecchie, dico io, cioè che ama sentire. Purtroppo Pordenone molto spesso, fino ad ora, si è fatto senza chiedere, senza chiedere ai cittadini e alle cittadine, si è imposto, ci siamo svegliati al mattino, abbiamo trovato le cose già fatte, senza che nessuno sapesse niente, senza chiedere se potevano piacere, non potevano piacere, senza chiedere il consiglio, il parere della gente. Io non sono di questa idea, io voglio parlare con le persone, parlare se devo fare qualcosa in un quartiere, suonare a tutti i campanelli, non c'è problema, ma io voglio ascoltare la gente. Pordenone non è solo mia, noi condividiamo una casa insieme, perché noi abbiamo la casa che è la nostra residenza, però poi noi abbiamo una casa in comune, che è la nostra città, che è Pordenone, che amiamo perché è come se fosse la nostra casa, tra l'altro paghiamo anche molti tributi purtroppo per quello che io vorrò abbassare e mi impegnerò il più possibile, se non subito, ma nei cinque anni ad abbassare questi tributi per tutti, anche per quello che stiamo passando per la pandemia. E quindi la nostra casa è Pordenone e non è giusto, non è giusto, come io non posso andare in casa degli altri a decidere e così bisogna anche avere, ecco a me piace parlare di buonsenso, di rispetto, questi sono i capisaldi della nostra lista civica, buonsenso, rispetto e amore proprio per la città e per le persone che vivono in questa città. Questo è molto importante e deve essere anche un messaggio per i giovani, perché ripeto, io anche per i giovani, i disabili, gli anziani farò dei grandi progetti per la cultura. Io sono una professoressa, ma ci tengo molto la cultura di questa città, quindi fare anche una cittadella dell'arte, della cultura, della musica, del turismo, che è un punto essenziale, anche perché abbiamo tante zone dismesse, anche molto belle da restituire. Le faccio una domanda a riguardo, che idea ha sul carcere che dovrebbe traslocare a San Vito al tagliamento e lasciare quella porzione lì libera? Ecco, io ho pensato, visto che ci sono queste celle, diciamo così, e il carcere non si può smembrare, rifare, perché è un monumento storico della nostra città, è un edificio storico e quindi deve rimanere con le caratteristiche storiche della nostra città e quindi io vorrò fare uno studentato, che manca a Pordenone, perché a proposito di scuola voglio dare un grosso incentivo all'Università di Pordenone, non solo dipendere da Udine e da Trieste, ma mi piacerebbe proprio che Pordenone avesse la sede di Pordenone e dell'Università, quindi creare uno studentato, creare delle sale per tutta la cittadinanza, per conferenze, per allestimento di mostre, ma anche per rivivere la città, perché se portiamo giovani in centro città, rivivono anche i bar, rivivono i ristoranti, rivivono i negozi, rivive la città stessa e mi piace anche il connubio del studentato, del carcere e delle sale, appunto conferenze e quant'altro, vicino alla casa di riposo e quindi abbiamo i giovani e gli anziani insieme che si uniscono in questo rapporto intergenerazionale che è bellissimo, che io voglio che ci sia nella mia città. Allora siamo agli sgoccioli della trasmissione, ultima domanda è questa, a Pordenone è previsto l'eventuale turno di ballottaggio nel caso il suo appoggio andrebbe più verso Alessandro Ciriani o verso Gianni Zanolin? Beh potrebbe esserci questo caso di ballottaggio, infatti me l'hanno chiesto in tanti, io guarda per il momento mi piace dire una cosa, io viaggio da sola in questo momento, ho la mia lista civica, io sono svincolata dai partiti politici, faccio politica nel senso di vera politica, quindi non legata nel senso ai partiti politici italiani, PD, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, Nord eccetera, io sono svincolata da questi partiti, io faccio politica nel vero senso della parola, nel senso civico, cioè di fare del bene per la mia città, in questo senso, quindi io intanto vado avanti da sola per la mia strada, adesso è presto, vedrò che cosa succede, come andrà, del caso chiaramente parlerò insieme alla mia lista civica e vedremo che cosa faremo, che cosa decideremo. E allora grazie in bocca al lupo ad Anna Ciriani per la sua avventura, tra poco ci saranno tra qualche mese, aspettiamo ancora la data, ma insomma arriveranno le elezioni, insomma buon lavoro a lei e alla sua squadra, questa puntata di screenshot termina qui, la prossima settimana probabilmente andremo a trovare anche il terzo candidato Alessandro Ciriani, voi restate con noi, l'appuntamento è per domani sera. arrivederci.